R6 Che diavolo è l'R6? Lo mettono nel siero vitaminico Sperimentano su cavie umane È il siero vitaminico? No, è vaccino anti-influenzale È il vaccino umano? Non stanno mescolando il loro farmaco con le vitamine Ma con il nostro vaccino Il carico parte domani Hanno fatto tutto da qui L'hanno testato sull'uomo e poi imballato Perché sembrasse vaccino anti-influenzale Quando uniranno questo carico con quello vero Non si noterà la differenza E nessuna agenzia governativa si preoccuperà del vaccino Se dovrà esaminare la vitamina dei visitors Che probabilmente sarà solo uno sciroppo vitaminico Loro sanno con esattezza in che modo fregarci I media ci bombardano di notizie su epidemie, pandemie E noi corriamo a farci un'iniezione per proteggerci Su questo contano sulla nostra prevedibilità La nostra natura umana Ogni mossa è calcolata Non è vero? Qualunque cosa faccia Anna è calcolata, sì Quindi che facciamo? Smettiamo di fare quello che ci rende umani? Io dico solo che più saremo prevedibili Più saremo vulnerabili Voglio tenere questo come prova Il resto distruggiamolo Grazie a tutti